Come fare una panoramica efficace dell'azienda, vendere più facilmente e a presti più alto. Ciao, sono Massimo Gardini e da piccolo, visto che mi piaceva l'odore della benzina, volevo diventare benzinaio. Ma dal 2005 a oggi produco e realizzo film, spot e video per le aziende e per i professionisti. In un mondo sempre più digitale e digitalizzato è importante lavorare sul proprio brand e raccontare in maniera efficiente e convincente le proprie skills e i propri punti di forza. Se è vero che in un minuto di video ci sono gli stessi concetti espressi in 1,8 milioni di parole, è facile capire quanto impattante sia un filmato ben strutturato, che in poco tempo travolga lo spettatore presentando tutti i prodotti e servizi dell'azienda, raccontando in maniera efficace la storia e introducendo i valori che la rappresentano. Cos'è il corporate video? È uno strumento storico della comunicazione aziendale utilizzato per raccontare gli aspetti più caratteristici, più significativi dell'azienda. Mostra come è strutturata e ne racconta la potenza di fuoco, svela qual è il suo approccio e come soddisfa le esigenze dei propri clienti. È un video che serve a migliorare il brand dell'azienda, a renderlo più riconoscibile, spiega i prodotti e i servizi che l'azienda offre, consolida la sua presenza nel web. Serve in particolare tutte quelle aziende di produzione che devono rassicurare i clienti sui processi che vengono adottati per garantire la qualità dei prodotti e raccontare l'efficienza dell'azienda. Se il video è ben pensato e ben costruito, lo si può dividere in capitoli, segmentandolo per argomenti e inserire ogni parte nella sezione del sito più appropriata. Studiando il video in maniera smart puoi creare anche tanti contenuti da utilizzare sui social. Ricorda però sempre che il corporate video è un film istituzionale che rappresenta l'azienda e l'azienda deve uscire nel miglior modo possibile. In particolare più volete rafforzare il brand e distaccarvi dalla concorrenza, maggiore dovrà essere la cura nella creazione di ogni singola scena del video. E allora come realizzare un corporate video? In descrizione trovi il link a FP Trasmissioni che è un nostro cliente storico che con il giusto investimento è riuscito a consolidare la sua immagine sul web attraendo tanti nuovi clienti. E allora vuoi capire meglio quello che ti serve per realizzare un corporate? Scrivimi a m.gardini at studio horizon.it E allora io ti ringrazio per l'ascolto e ti do appuntamento alla prossima puntata di Film & Emotion, la comunicazione video per il web. Ciao!